Ha ascoltato il verdetto, ha gridato di non essere un criminale di guerra e si è ucciso ingerendo veleno in diretta televisiva. È morto così, con un gesto estremo compiuto davanti alle telecamere Slobodan Praljak, uno degli ex leader politici e militari croati e bosniaci, comparsi davanti al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per i crimini compiuti durante la guerra nella ex Jugoslavia. Slobodan Praljak, 72 anni, ufficiale del Ministero della Difesa croato e comandante della milizia croato-bosniaca, era stato condannato in primo grado nel 2013 a vent'anni di prigione per i crimini commessi a Mostar, dove fu tra l'altro il principale responsabile della distruzione del Ponte Vecchio, simbolo della città e della convivenza tra le culture che la abitavano. Il Tribunale dell'AIA ha confermato le condanne di Praljak e di altri cinque imputati, tutti considerati responsabili dell'attentata pulizia etnica della Bosnia-Herzegovina ai danni della popolazione musulmana. Udito il verdetto, l'ex generale ha gridato «Slobodan Praljak non è un criminale di guerra» e con sdegno respingo la sentenza. Ha poi portato alla bocca una fiala, ha bevuto il veleno e si è accasciato, morendo sotto lo sguardo attonito del Presidente del Tribunale e dei presenti in aula. L'udienza è stata immediatamente sospesa, le autorità olandesi hanno aperto un'inchiesta.